Buongiorno a tutte e tutti. Oggi ci occupiamo di convenzioni. Nello specifico andiamo a vedere come le convenzioni ci permettono di definire in modo arbitrario le variabili di rete e pur avendo fatto questa scelta arbitraria otterremo gli stessi identici risultati. Utilizziamo un circuito molto semplice che richiederà poco sforzo per poterlo risolvere e quindi potremo concentrarci sull'analisi delle convenzioni. In prima battuta facciamo delle scelte come dire ragionevoli e intuitive. Qui abbiamo un solo generatore e ragionevole ed intuitivo pensare che lui erogherà una corrente. Questa corrente la chiamiamo corrente I. Arrivata a questo nodo la corrente verosimilmente andrà a distribuirsi una parte nel lato 1 e una parte di qua con questa frecciolina nel lato 2. Quindi seguendo il percorso delle correnti questa corrente I1 andrà a finire nella resistenza R1 e ancora una volta uso il termine ragionevole. E' ragionevole pensare che qui sopra avremo una caduta di tensione orientata in questo modo. Lo stesso vale per la caduta di tensione V2 sul resistore R2 e lo stesso vale per V3. Insomma tutto sufficientemente intuitivo. Ok? Adesso andiamo a risolvere il circuito. Come facciamo? Ad esempio direi che possiamo considerare una prima legge di Kirchhoff delle tensioni. Vengo qua e ricordo che sto applicando una legge di Kirchhoff delle delle tensioni in cui con verso anche questo arbitrario convenzionale orario vado a prendere V1 con corde rispetto al verso di percorrenza meno E discorde e come vedete riesco immediatamente a identificare il valore di V1. Questa è pari a 100 volt perché è pari ad E. D'altra parte lo vedevamo anche a occhio che il generatore di tensione impone tensione ai capi di questo resistore. Ora la corrente I1 che circola dentro il resistore R1 e circola diciamo ed è associata alla tensione V1 in convenzione degli utilizzatori ci permette tramite la legge di Ohm V1 uguale R1 per I1 di identificare immediatamente la corrente I1 come V1 fratto R1. I valori sono semplici 100 diviso 5 quindi questa corrente è pari a 20 A. Ok direi che ci possiamo occupare delle variabili mancanti quindi proviamo a considerare questa maglia. Ancora una volta faccio una legge di Kirchhoff delle tensioni in cui la convenzione, nel verso di percorrenza l'ho scelto in modo arbitrario, stavolta è di nuovo orario, e ho una variabile di tensione E concorde con il verso di percorrenza meno V2 discorde meno V3 discorde. Questa è la legge di Kirchhoff delle tensioni. La corrente I2, la vedete qua ma la potete immaginare anche qua e in convenzione degli utilizzatori con la tensione V2 per cui possiamo scrivere che V2 è uguale a R2 per I2. La corrente I2 si associa alla tensione V3 in convenzione degli utilizzatori quindi possiamo andare a scrivere che V3 è uguale al valore della resistenza R3 per la corrente I2, sostituisco queste due nella prima equazione e qui cosa ottengo? Ottengo che E meno R2 per I2 meno R3 per I2 uguale a 0, da cui prossimo passaggio semplicemente vado ad ottenere che la corrente I2 è uguale al valore di E fratto R2 più R3. Anche qui molto semplice fare i conti perché abbiamo 100 fratto 7 più 3 che fa 10, quindi 100 su 10, questa corrente è pari a 10 A. Cos'altro dobbiamo quantificare? Dobbiamo quantificare ad esempio la corrente I e lo possiamo fare con una legge di Kirchhoff delle correnti. A questo nodo qua è semplice, l'avevamo diciamo praticamente già fatta nel momento in cui definivamo le correnti, abbiamo detto che c'era una corrente che arrivava a quel nodo e poi si divideva negli altri due e infatti la somma delle correnti entranti che è I è pari alla somma delle correnti uscenti. Nel nostro caso 10 più 20 A, quindi 30 A. Possiamo quantificare qualcos'altro giusto per aggiungere carne al fuoco? Sì, direi che possiamo ad esempio provare a quantificare la potenza elettrica associata al nostro generatore di tensione. Sappiamo che questa è pari a E per il prodotto 100 per 30 diventa 3000, diciamo che possiamo scrivere in maniera un pochettino più compatta, 3 kilowatt. Successivamente andremo poi a dare un'interpretazione di dettaglio maggiore a questa potenza. È arrivato il momento di provare a vedere cosa succede se cambio le convenzioni. Quindi questa volta non faccio delle scelte ragionevoli, non faccio delle scelte intuitive, faccio delle scelte puramente arbitrarie. Quindi ad esempio io potrei andare a scegliere una corrente I che questa volta entra nel nostro generatore. Non è intuitiva questa scelta, è chiaro perché abbiamo un solo generatore in questa rete, è chiaro che il generatore eroga corrente ed è già confermato dai conti che abbiamo fatto qua. Ipotizzando una corrente positiva uscente dal nostro generatore otteniamo che questa corrente è un numero maggiore di zero. Quindi è proprio così stanno le cose. E cosa succede quindi se io scelgo una corrente opposta come verso convenzionale? Andrò a finire in un vicolo cieco? Non potrò risolvere l'esercizio? Ci saranno dei problemi? No, le convenzioni ci permettono di scegliere questa corrente in modo arbitrario. Supponiamo qui di scegliere la corrente I1 esattamente come l'abbiamo scelta prima. La tensione sul resistore R1 però la scegliamo verso il basso. Quindi sto facendo delle scelte, come vi ho detto, arbitrarie. La corrente I2 anche qui la vado a scegliere più o meno a casaccio e quindi la scelgo opposta rispetto al caso precedente. Dopodiché devo scegliere qui una tensione che posso scegliere magari esattamente come l'avevo scelta prima e poi una tensione V3 che invece questa volta metto con convenzione positiva verso il basso. Queste sono le mie scelte. Come si affronta un esercizio in questo modo? Direi allo stesso modo di prima senza porsi troppi problemi andiamo a considerare questa maglia che andiamo ad orientare e si come qui anche abbiamo un grado di arbitrarietà volontariamente vado a scegliere questa volta un senso anti-orario. Da questa parte quindi una legge di Kirchhoff delle tensioni cosa mi dirà? Che la variabile tensione E concorde rispetto al verso di percorrenza più V1 che questa volta è concorde rispetto al verso di percorrenza uguale a 0. Da cui vado immediatamente a ricavare V1 come meno E ed è uguale questa volta a meno 100 volt. Quindi come vedete sto già in qualche modo osservando che la convenzione mi permette di arrivare allo stesso risultato perché se da questa parte definisco una tensione convenzionalmente positiva verso l'alto e quindi dico che la differenza di potenziale tra questo nodo e questo nodo è pari a 100, da questa parte sto dicendo che la differenza di potenziale tra questo nodo e questo nodo è pari a meno 100. Quindi di fatto una grandezza uguale e opposta a quella definita in precedenza viene una grandezza uguale e opposta anche in termini numerici. Quindi in due modi differenti, con due convenzioni differenti, stiamo dicendo la stessa cosa. Altra attenzione dobbiamo porre nel momento in cui vogliamo valutare questa corrente perché se ne seguiamo il percorso quella corrente va a finire qua. Quindi questa è la corrente I1 che come vedete si associa a questa tensione in convenzione dei generatori. Quindi nel momento in cui scrivo questa equazione costitutiva devo andare ad introdurre qui un segno meno. V1 uguale meno R1 per I1. Anche su questo aspetto c'è un video di dettaglio di cui vi metto il link qua sopra. Ma andiamo a quantificare questa grandezza. I1 è uguale quindi a meno V1 fratto R1. Ora meno V1, quindi meno meno 100 che fa 100, fratto R1. Questa viene pari a 20 A. Qui di nuovo abbiamo conferma che pur avendo fatto delle scelte differenti, siccome la grandezza I1 era definita esattamente allo stesso modo nei due circuiti, da entrambe le parti otteniamo lo stesso risultato. Qui I1 uguale 20 e qui I1 uguale 20. Andiamo avanti. Andiamo avanti e scegliamo questo verso convenzionale per analizzare la seconda maglia. Anche qui ho fatto la scelta opposta, proprio per verificare e dimostrare che la scelta è convenzionale. Posso fare la scelta che voglio. Direi che se parto da questo nodo trovo la tensione V3 discorde rispetto al verso di percorrenza, poi la tensione V2 concorde rispetto al verso di percorrenza e poi la tensione E discorde rispetto al verso di percorrenza. Dopodiché devo andare a scrivere le equazioni costitutive facendo attenzione alle convenzioni. La corrente I2, che posso immaginare di qua, è in convenzione dei generatori per il resistore R2. Quindi devo scrivere che V2 è uguale a meno R2 per I2. La corrente I2 con la tensione V3, me la devo immaginare qua, questa è la corrente I2, sono in convenzione degli utilizzatori e quindi questa volta qua posso scrivere che la tensione V3 è uguale a R3 per I2 senza questo segno meno che derivava dalla convenzione dei generatori. Sostituisco così come ho fatto prima e trovo che meno V3, quindi meno R3 per I2, più V2, quindi devo mettere più meno R2 per I2, meno E uguale a zero. Sono pronto per calcolare la corrente I2. Come vedete qui c'è un segno meno che quindi devo tenere in considerazione. Avrò E fratto R2 più R3 ma con segno negativo. Questo vuol dire che otterrò il risultato uguale opposto a quello ottenuto in precedenza. E questo conferma il fatto che la corrente I2 è stata definita in modo uguale e opposto, quindi tutto normale, ok? Qui stiamo dicendo che abbiamo una corrente positiva che va da sinistra verso destra, qui stiamo dicendo che abbiamo una corrente negativa che va da destra verso sinistra. Quindi fisicamente anche qui scopriamo che la corrente va da sinistra verso destra perché questo è un segno negativo. In ultimo veniamo sempre a questo nodo in cui la nostra legge di Kirchhoff delle correnti ci dirà che la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti. Per come sono state definite, qui la corrente entrante è la corrente I2. Le correnti uscenti sono le correnti I1 ed I. Noi questa espressione la utilizziamo per quantificare la corrente I. La corrente I che si calcola quindi come I2 meno I1, vale a dire I2 meno 10 meno I1, cioè meno 20 e quindi questa cosa qua viene meno 30A. Ancora una volta una corrente definita in modo opposto al caso precedente viene un valore uguale e opposto. Anche qui per concludere possiamo andare a quantificare la potenza erogata dal nostro generatore. Come si quantifica? Sempre con la stessa espressione E per I, il cui risultato chiaramente questa volta è un 100 per meno 30, quindi meno 3000, quindi di fatto questi sono meno 3 kW. Come vi dicevo un livello di dettaglio lo dobbiamo dare su queste due potenze perché nel primo caso la tensione del generatore e la corrente di questo generatore sono in convenzione dei generatori. Ricordate che qui abbiamo fatto delle scelte intuitive e ragionevoli. Il generatore eroga e quindi l'abbiamo analizzato in convenzione dei generatori. Vale a dire che abbiamo considerato un flusso di potenza chiamato PE che esce dal generatore e quindi tutto normale ottenere un valore positivo perché questo generatore sta erogando 3 kW. Questa potenza è una potenza convenzionalmente erogata e il fatto che sia positivo il valore ci conferma che lui sta erogando potenza. Da questa parte abbiamo utilizzato, perché abbiamo fatto delle scelte arbitrarie senza pensarci troppo, una convenzione degli utilizzatori per un generatore ed essendo l'unico generatore in rete lui è destinato ad erogare fisicamente potenza, ma non importa, noi abbiamo scelto di studiarlo in convenzione degli utilizzatori. Questo significa che la nostra convenzione è questa. In questo caso PE è una potenza convenzionalmente assorbita. Il fatto che venga negativa ci conferma che lui in realtà sta erogando fisicamente potenza perché la direzione è opposta alla frecciolina che abbiamo scritto. Quindi ancora una volta da una parte o dall'altra concludiamo esattamente la stessa cosa, cioè il generatore sta erogando 3 kW. Di qua lo diciamo in questo modo. Potenza erogata pari a 3 kW e di qua lo diciamo in questo modo. Potenza assorbita pari a meno 3 kW e chiaramente le due cose sono equivalenti. Quindi in estrema sintesi abbiamo visto due esercizi, diciamo lo stesso esercizio analizzato con convenzioni differenti, ma pur avendo utilizzato convenzioni differenti l'interpretazione dei risultati ci porta allo stesso, come dire, alla stessa interpretazione fisica del fenomeno che stiamo analizzando. È tutto.